Senti, la pioggia in sottofondo, concilierà il tuo studio, oltre che al tuo rilassamento. Questo video è dedicato a Gloria, che si è distratta su TikTok, effettuando l'abbonamento. Gloria mi ha chiesto un video studio da tenere in sottofondo per studiare, e io la contenderò. Saluto anche i presenti in chat in questo momento, come Vale, Chiara, Riccardo, Pamela e Jazzy J. Grazie per essere qui con me nel momento della registrazione. Adesso, lasciamoci andare. E ci focalizzeremo su questo video da tenere in sottofondo mentre si studia. Iniziamo con un delicato tapping sul sughero. Volere e potere. Concentrati. Dai il massimo. I tuoi sforzi verranno ricompensati. I tuoi sforzi verranno ricompensati. isiö. I tuoi isso notiko. I tuoi sforzi sellina. Voi sforzi. Vi come con il di noi. E gunna è quando continuer. No. Oh. Ticca 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 ticca? Ticca 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 cruda, crudo. Se riuscirai a concentrarti per tutta la durata di questo video, al termine di questo video potrai prendere una pausa di dieci minuti. Da questo momento non perdere di vista il tuo obiettivo, le pagine che devi leggere, l'argomento che devi trattare e ricordati di cercare di appassionarti a quello che stai facendo, perché il vero trucco però è imparare le cose e metterci passione. Io sono qui a motivarti e a credere in te. sicuro che ce la farà. Ga! Ma! Ticca! 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 Ticco Ticco Non perdere di vista I tuoi obiettivi Soprattutto Non distrarti Potrebbe entrarti Non distrarti Potrebbe entrarti Non distrarti Potrebbe entrarti Non distrarti Potrebbe entrarti Potrebbe entrarti Potrebbe entrarti Non distrarti Potrebbe entrarti Per hoof cardiac Potrebbe entrarti ют Alla prossima Vediamo chi indovina che orologio è. Guardatelo attentamente. Secondo voi che orologio è? E quanto costa? Vi faccio vedere anche il sistema operativo. Se siete interessati vi farò un video. Tipo notizio. 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 La prossima live sarà mercoledì su YouTube, su TikTok, mentre sulla piola le live le faccio di sera. Sembra un Apple Watch. Mi stanno scrivendo su TikTok. Mi piacerebbe averne uno alla modica cifra di 50 euro. Sì, sì, scrivetemi su Instagram. Sì, sì, s'il te piace. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Gloria, non distrarti, concentrati, concentrati sul tuo obiettivo. Concentrati, concentrati. Concentrati, concentrati. Concentrati, concentrati. Concentrati, concentrati. Concentrati, concentrati. Grazie Raffi per essere diventato un membro, grazie di cuore Allora, cara Gloria Spero che questo mix di trigger ti abbia tenuto un po' in sottofondo In questi 15 minuti di studio non ho utilizzato delle frequenze specifiche o dei trigger specifici Ma ho voluto che proprio fosse un sottofondo, un rumore di fondo che possa accompagnarti nei tuoi momenti di studio Spero che magari tu l'abbia apprezzato Ma, visto che comunque sei già abbonato da un paio di mesi Ti dico che se vuoi magari un video specifico per dei sottofondi, per video studio Cercherò di ricreartene un altro ad hoc Per questo video è tutto Saluto anche chiunque altro che stia vedendo questo video qui su Youtube E se non sei iscritto al canale, iscritti Noi ci vediamo in un prossimo video ASMR Grazie a tutti